Questo video riguarda i migliori 3 caldaia a pellet. Il vincitore della qualità è il PK30 Caldaia a Pellet. Installazione, in ambienti appositi, stanze dedicate, potenza termica nominale, 30 kW e potenza resa all'acqua, 30 kW e rendimento, 92,4% e adatto per stanze fino a 860 m3 e capacità serbatoio, 75 kg e idro. Si e connessione Wi-Fi, si e certificazione ambientale 186 decimetri, 5 stelle gestione energetica, classe energetica, a più, consumo di pellet, 6,8 kGH caratteristiche fisiche, diametro del raccordo di scarico, 120 mm e posizione scarico fumi, posteriore e laterale SX e colore, grigio e larghezza, 892 mm. Profondità, 745 mm e altezza, 1398 mm e peso, 310 kg. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'IMAR SRL Caldaia a Pellet Caldaia a Pellet solida, sicura, intelligente e certificata E-Compact 250S sono caldaie a pellet dal solido rivestimento in acciaio, coibentazione in vermiculite e fibra di vetro La presenza della candeletta al quarzo permette di ottenere accensioni fino a 6 volte più rapide rispetto a quella tradizionale, assicurando una maggiore durata all'usura e una riduzione dei consumi energetici Dotate di sonda K che garantisce un controllo ottimale e immediato della fiamma, riducendo i tempi di accensione La scheda elettronica di ultima generazione offre un totale controllo, efficienza e sicurezza dell'apparecchio Mentre il programmatore settimanale è utilizzabile per impostare fino a 4 accensioni e spegnimenti giornalieri e ottimizzare così il funzionamento durante tutta la giornata Il vincitore del premio è il Pereco Power 5 Il corpo caldaia è progettato in modo da collegare le tendenze moderne nel settore del riscaldamento e la funzionalità operativa È possibile collegare i pannelli solari direttamente alla caldaia KSP Spark, cosa che rende il dispositivo ancora più ecologico Il pellet di legno viene utilizzato come combustibile primario per la caldaia KSP Spark Il dispositivo ha una quinta classe di emissione secondo la norma Pordenone N303-5, 2012 e quindi è ecologico KSP Spark è equipaggiato con un bruciatore circolare con la modalità CCS Laminox Il modello KSP Spark è equipaggiato con un moderno controllore elettronico destinato al controllo del funzionamento dell'alimentatore a coclea Del ventilatore fumi, delle pompe di circolazione, della potenza del dispositivo e della temperatura dell'acqua nella caldaia Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento